Un saluto a tutti voi amici di G-Style da Stefano D'Alberto Parte una nuova puntata, la 244 Iniziamo subito parlando del Festival di Sanremo Tantissimi i servizi si onora visti anche nelle puntate precedenti Questa volta centriamo il nostro obiettivo con interviste fatte a Flower Terry A Mitch della mitica Radio 105 con Beppe Stanco e Caterina Tarcova Ancora un servizio, un backstage fotografico in questo caso Parliamo di una Miss, Miss VIP 2009 Lei si chiama Veronica Mastrullo e lei è la protagonista E poi siamo stati al Borgo con Amore Questo evento che si è tenuto a San Valentino presso Borgo Fontescura Ospite nei nostri studi per la seconda volta per parlarci di un evento E la nostra amica Deborah K. Poetessa Poi uno shooting fotografico firmato come sempre da Giulio Gennari E per concludere tante immagini, le più belle, più esclusive anche dall'alto Quindi filmate dal nostro drone Per il wedding mix dedicato ai matrimoni con lo staff di Giulio Gennari E quindi buona visione con G-Style G-Style ti segue in movimento Racconterà per voi le storie più belle Il tuo filmato preferito sempre in tasca Ci trovi su YouTube G-Style TV Quanti ci seguono? Vai su YouTube G-Style TV G-Style Seguici e vedrai